Radio Kalashnikov Quello che vedete non è un semplice bagno, cioè un atto di civiltà, l'incontro tra le gene e i pensieri, bensì qualcosa di più alto ancora. Questo è un punto di purificazione, per chi non vuole essere solo guerriero, ma farsi categoria dell'anima. Oggi, in queste acque pure, si compie un atto fondativo importante. Noi, plurale maestates, oggi fondiamo il partito comunista rivoluzionario virtuale. Attenzione a quest'ultima parola, che ne contiene due. Virtuale, poiché è il mezzo su cui corre la nostra voce, e virtù, nella quale fumo ammantati per portare a voi la luce. Noi, oggi nominiamo, segretario vita per diritto divino, il suo comandante, che assumerà il titolo di Dio Sol dell'Avenire. E come primo atto, egli ripristina lo Ius Prime Notis. Radio Kalashnikov Radio Kalashnikov Radio Radio Kalashnikov